bimbe un video come dire fuori orario allora da noi ogni scusa è buona per fare festa allora con il lono massico di mio marito noi abbiamo già mangiato la pasta con le cozze a pranzo ora siccome devono venire i miei figli mio marito sta facendo cozze scoppiate cozze col pomodoro le bruschette da mettere nella zuppa di cozze vedete questa è la zuppa di cozze col pomodoro questa è un'insalata di polpo io come fa quello di avanti un altro io ho fatto invece le bruschette guardate che sono buone ho apparecchiato la tavola sempre così diciamo estiva con questi piatti celesti molto carini che ricordano il mare e l'estate poi vi faccio vedere che cosa c'è al forno allora questi sono i calamari ripieni che avete visto oggi e gli spiedini del pescatore questi li dobbiamo fare ancora al forno aspettiamo i miei figli che tornano dal lavoro e appunto e poi ci metteremo a tavola ragazze ecco qui il le cozze con i crostini l'insalata di polpo con le cozze tutte messe a raggera poi abbiamo qua un po di prosciutto crudo e difesa e poi abbiamo qua un po di salmone questo è il pesce che nel frattempo si sta cuocendo al forno e poi abbiamo mia figlia a tavola che però non inquadro perché altrimenti perché altrimenti apriti cielo apriti cielo allora ragazze come al solito c'è un casino vi faccio vedere tutto quello che c'è filippo chef sto filmando no niente allora ragazze qua c'è il pesce spada cozze c'è cozze in tutte le salse ragazze allora cozze cozze e cozze ora è o non è un'esagerazione è san filippo san filippo è il santo protettore dei pesci a delle cozze ho capito a me mi ha fatto questa bestia questa orata che è veramente una bestia c'è un casino c'è mio figlio che parla al telefono c'è mia figlia che parla pure al telefono anzi se è andata lì dentro ragazzi allora io vi saluto questo è stato un in più però visto che mio marito ha cucinato tutte queste cose ci stava anzi filippo una cosa ringrazia perché tutte tutte hanno fatto gli auguri di bononomastico quindi ringrazia grazie 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 a tutte da parte di mio marito auguri auguri va bene ragazzi adesso vi saluto e ci sediamo e mangiamo